Allora ragazzi mi è stato chiesto anche direttamente Lo avevo L'avevo mezzo in testa come idea Ma mi è stata chiesta direttamente di esprimere un parere Sul Forse non tanto sul taglio di Hornacek Ma sulla situazione di Phoenix Ma forse anche sul taglio di Hornacek Allora io credo che A mente Un po' fredda Ma un po' appena appena tiepida Siamo appena appena fuori dal caldo Perché Non credo che La colpa sia di Hornacek Perché non è colpa di Hornacek Se Archie Godwin O Goodwin Quel cazzo che è Fa 1 su 11 dal campo Assolutamente no Come non è colpa di Hornacek Se Markief Morris Ha i cavoli suoi E gli lancia in faccia un asciugamano Non è assolutamente colpa sua Però è il costo di una squadra Io punterei più il dito Su Sul general manager Su Ryan McDonough Che è vero Che aveva dato un ultimatum Il mese scorso A Hornacek E' vero che le prime due stagioni Di Jeff Hornacek e Phoenix Sono terminati con un 48-34 E con un 39-43 E quest'anno Avevamo preso in offseason Tyson Chandler Buon lungo Buona presa Però è vero anche che Il 14-35 Le 19 vittorie 19 sconfitte Nelle ultime 21 partite 3 vittorie Nelle ultime 24 Comunque Estendendo la classifica Io sto guardando E' tutta una L C'è tutta una L in verticale Sembra una pagina Di pronuncia ferrarese Con la L La L Tutta una L Quindi ragazzi Siamo Siamo messi così Cosa ne penso di Hornacek Vabbè sono contento Perché il cambiamento Ci vuole Credo che ci voglia Un po' Di un po' Cioè chiamala un po' Una rifondazione Sono stufo Di vedere La mia squadra perdere Non ne posso più Ecco Cosa penso Della situazione Penso che Essere all'ultimo quarto Essere all'ultimo quarto Avanti La partita della scorsa notte Con Dulles 73 A 68 Quindi partire con un 4-0 E poi prendere 5-23 Di parziale Fare 9 punti Nell'ultimo quarto Vabbè E' colpa di quelli Che il canestro in campo Non lo fanno Però cioè O tagli i giocatori O tagli i giocatori O cambi l'allenatore Adesso domani Martedì Verrà annunciato Chi sarà il coach Ad interim Di Phoenix Conviene fare Tanking Cioè perdere apposta Per avere Lo sapete benissimo La cantilena Più possibilità Più palline Nell'urna Insomma Il tutto in vista Del prossimo draft Per avere una scelta Più Alta E vabbè Phoenix Risorgeremo Non lo so Ci attacchiamo Anche alla mitologia Il fatto che la Fenice Risorgeva dalle proprie ceneri Chiama le ceneri Un saluto Per avere una scelta Per avere una scelta Per avere una scelta